Qualcuno che ha avuto un incidente ed è in stato vegetativo, non pensare in termini di sono morti e sono stati riportati indietro. Non è vero. È solo che potrebbe essere successo che la forza vitale sia così scioccata, sia più proiettata verso l'esterno che verso l'interno. Stia prendendo una decisione. Essere o non essere? Non è una domanda filosofica. È una domanda pratica. Se il corpo sia abbastanza in forma per essere o non essere. Quindi, se hai scelto di essere, non è per gli operatori sanitari. Loro potrebbero assistere. Potrebbero assistere. Ma è la vita che decide di restare perché il corpo è ancora ospitale. Magari gli operatori sanitari rendono il corpo un po' più ospitale di quanto sarebbe stato senza il loro aiuto, alquanto possibile. Quindi, non sono morti. Erano in una condizione di essere o non essere. Erano più proiettati verso l'esterno che verso l'interno. Anche ora sei parzialmente proiettato verso l'esterno, per lo più proiettato verso l'interno. In quel momento, può essere stato che eri per lo più proiettato verso l'esterno, parzialmente proiettato verso l'interno. Anche dopo che sono morti, non tutto è andato. Se non lo sai, abbiamo osservato questo molte volte. Fino agli 11-14 giorni, un corpo morto fa crescere le unghie e i capelli e ogni cosa. Perché la vita si ritira lentamente, non salta fuori e basta. Quindi, non puoi dichiarare qualcuno spiritualmente morto fino a 14 giorni dopo la morte medica. Dopo aver fatto questa altalena di essere o non essere per un po', hai detto essere. Ma il corpo è solamente ospitale a sufficienza per stare a letto, non a sufficienza per alzarsi e camminare o fare qualunque cosa ci si aspetta che faccia un uomo o una donna. Non dico questo senza riguardo, ma voglio che tu lo servi come un argomento, non come una cosa emotiva, perché allora non lo osserverai nel modo giusto. Quindi, se chiami questo vegetare, ci sono due modi di vegetare. Uno è solo il corpo è andato, ma ogni cosa nella mente è ancora attiva. Questo può portare a molta sofferenza, perché possono vedere, possono sentire, possono usare, possono capire, ma nessuna capacità di fare niente. Parlare è l'ultima cosa che hanno in mente. Vogliono alzarsi e camminare. Non sono capaci di rispondere. Il corpo è diventato inerte, ma la mente è ancora attiva. ci sono altri tipi di stati in cui il corpo si trova in una condizione ragionevolmente buona, ma la mente è diventata inerte. Quindi il corpo non può agire. Il corpo è in buone condizioni. Se la mente fosse attiva, agirebbe, ma la mente è andata. la struttura fisica che è necessaria per ospitare la mente è andata. Qualcosa si è rotto. Quindi la mente non sta trovando alloggio. Quindi non può agire. Ma gli aspetti più sottili della mente sono ancora attivi. Solo che la mente con cui decifri la mente con cui formuli giudizi la mente con cui sei capace di distinguere quella è andata. Ma l'altra mente che semplicemente gira con la memoria inconscia quella è ancora lì. Se quella non c'è il corpo non può essere vivo. Quindi se una persona sta sdraiata in un posto per un tempo molto lungo senza una mente discriminante potrebbe lentamente diventare consapevole di quel girare inconscio della memoria che sta accadendo dentro di sé che fa andare ogni cosa è assai possibile. non ho passato abbastanza tempo con persone simili una volta o due quando ne ho viste ho sentito che qualcosa accadeva. Non dovrebbero avere una mente ma c'è tanta attività che sta accadendo. Quindi la natura inconscia della mente potrebbe essere arrivata ad un tipo di consapevolezza perché la mente conscia è la mente che distingue è andata. Quindi l'altra parte potrebbe diventare apparente. di cui la maggior parte delle persone non sono consapevoli. Quindi potrebbe non esserci sofferenza attiva ma potrebbe esserci un qualche tipo di stato confusionale che molti esseri umani apprezzano molto perché perché la gente vuole bere perché vogliono drogarsi perché vogliono rimanere a letto dopo che il sole è sorto è perché a loro piace e perché vogliono meditare a loro piace sai muoversi tra conscio e inconscio la linea di confine a loro piace danzarci un po' su quindi alcol droghe sonno letargia mangiare eccessivamente sessualità tutte queste cose ti danno quello stare un po' sulla linea di confine di né questo né quello quindi in realtà se la sua mente è la mente discriminante è semplicemente tagliata fuori in realtà lui potrebbe trovarsi in un posto molto buono semplicemente stare lì niente fastidi nessun lavoro da fare niente di niente se mantieni il suo corpo confortevole se ti assicuri che non abbia piaghe da decubito e questo e quello in realtà potrebbe trovarsi in uno spazio molto confortevole l'unico che veramente soffre è il corpo è diventato un vegetale la mente è pienamente sveglia e attiva ora questo soffrirà a meno che anche lui non ci venga a patti e diventi molto meditativo dentro di sé se giunge a una cosa simile può diventare un gran posto per lui spiritualmente perché ora il problema di queste persone è ora sono tutti capaci di sedersi e meditare per ore il loro unico problema sono le loro maledette gambe e la schiena se non ce l'avessero starebbero seduti così per giorni non è così? quindi questi problemi sono stati eliminati per lui niente sensazioni nelle gambe niente sensazioni nella schiena se ci arriva cosa che credo farà se passo un po' di tempo con loro ti direi se ci sono arrivati o no se ci arrivano potrebbe essere molto produttivo spiritualmente niente corpo ma una mente allerta wow è il sogno di un meditatore il corpo è quello che ti infastidisce non è così? nelle fasi iniziali la mente ha la tortura ma una volta che la gestisci l'unico problema è questa è l'unica cosa non avevi un corpo una mente sveglia è un'ottima cosa ma tanti esseri umani potrebbero soffrirne terribilmente perché tutta la loro vita è stata sempre un paragone tra se stessi e qualcun altro qualcuno cammina quindi soffriranno qualcuno parla quindi soffriranno non possono camminare non possono parlare non possono fare quello che qualcun altro fa allora soffriranno anche adesso quando ogni cosa va bene le persone stanno soffrendo perché qualcuno ha un milione che loro non hanno e stanno soffrendo qualcuno ha quello loro non ce l'hanno stanno soffrendo non è così? quindi lo stesso schema potrebbe continuare in loro se escono da quello schema in realtà può essere un posto davvero fantastico in cui stare nessun problema al corpo la mente è pienamente allerta potremmo iniziarli non lo dico con alcuna mancanza di riguardo per la loro condizione in realtà potrebbe funzionare molto bene per lui se nient'altro può essere fatto dai professionisti medici potrebbe funzionare in modo fenomenale per loro semplicemente sdraiati una mente costantemente vigile potrebbe fare meraviglie parlo in questo senso perché sto solo osservando che non importa cosa diavolo accade alla tua vita tu devi sapere come trasformarla in un vantaggio non in uno svantaggio perché quello che ti può cadere non è controllato al 100% da te ma quello che ne fai è al 100% tuo non è così quindi se una cosa del genere è accaduta capitalizziamo anche questa a Grazie per la visione!